Una delegazione dell'Ucraina presente oggi a Città Sant'Angelo con il presidente della Camera di Commercio di Kiev, Sindaco Florindi, una importante occasione per avvicinare i due paesi, ma soprattutto un'occasione per incrementare i rapporti anche commerciali con l'Abruzzo. Sì, infatti mi sono presentato proprio con queste caratteristiche che oggi la delegazione, grazie a Paolo Di Lullo, è qui a Città Sant'Angelo, ma visiterà anche altri comuni, ma soprattutto quello che dobbiamo vendere è l'Abruzzo, perché il presidente della Camera di Commercio ci ha proprio detto che i rapporti con l'Italia e l'Ucraina sono in netta espansione, quindi noi non dobbiamo far altro che inserirci in questo settore per portare beneficio, anche perché anche l'Ucraina deve conoscere meglio l'Abruzzo e soprattutto gustare i nostri prodotti. Il presidente della Camera di Commercio di Kiev è qui in Abruzzo, Abruzzo e Ucraina più vicine. Incontrare le persone che sono fondamentali per lo sviluppo futuro di questo paese e ovviamente noi abbiamo portato una delegazione molto importante di diversi settori economici, sia dalla costruzione, dal spazio aeronautico, medicina e altre molte direzioni importanti e faremo il massimo per noi per poter sviluppare attività importanti, perché anche come ha detto prima il presidente, ha confermato il sindaco che ora siamo in una fase di grande sviluppo tra i nostri paesi, anche perché questa zona, questa regione è sconosciuta, prima era una terra incognita, terra sconosciuta per noi. Tutti gli imprenditori non sono mai stati qua, stiamo facendo una nuova scoperta per noi e speriamo che questa visita ci porterà grandi e efficaci risultati.